Ciao a tutti ragazzi, come vedete oggi parliamo di calcio reale Abbiamo chiesto sul sondaggio in pagina che abbiamo fatto qualche giorno fa Cosa ne pensavate se, soprattutto in estate, avessimo cominciato a parlare di calcio e un po' meno di FIFA O comunque alternare le due cose, abbiamo avuto un buon riscontro da una buona parte dell'utenza Quindi abbiamo deciso di cominciare E cominciò subito con un argomento abbastanza scottante Perché sono passati sette giorni dall'ufficialità del passaggio di Higuain alla Juventus L'acquisto record in Serie A, l'acquisto da 90 milioni di euro Uno dei primi tre, se non sbaglio il secondo acquisto più grosso nella storia del mondo, del calciomercato mondiale Forse il terzo, per circa 4 milioni non supera l'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte del Real Madrid qualche anno fa E' un trasferimento che è stato discusso un po' da tutti, abbiamo sentito le opinioni veramente di tutti Anche di persone che non volevamo ascoltare Ed oggi siamo qui a parlarne anche noi Sono qui a parlarne anch'io con voi Allora, io penso che questo acquisto sia stato innanzitutto una prova di forza incredibile della Juve Ma non è detto che sia un vero e proprio affare A tal proposito, infatti, vi consiglio di leggere, per chi massica soprattutto l'inglese L'articolo che Vice ha scritto qualche giorno fa, lo metto qui in descrizione Un articolo che ha analizzato l'impatto che questo acquisto potrebbe avere sul nostro campionato In particolare, l'autore inglese scrive del fatto che psicologicamente la Juventus ha distrutto la concorrenza Perché anche con l'acquisto di Pjanic dalla Roma Fa capire che chi praticamente arriva in Italia o chi gioca per squadre che non giocano nella Juve Sa che non va a vincere Sa che difficilmente vincerà, perché sarà sempre la Juve quella che vincerà E che loro sono i giganti Io praticamente qui, acquistato da Roma, Napoli, Lazio, Milan, Inter Posso crescere, ma difficilmente vincerò Una cosa che più o meno succede in Germania con il Bayern Monaco Però mi trovo d'accordo con questa opinione assolutamente Però sono stupito dalla mossa che la Juve ha fatto Perché mai nella propria storia la Juve ha speso tutti questi soldi per un calciatore Tutti ci ricordiamo del passaggio di Zidane a Real Madrid E che anche quello per quel periodo fu un record Con la Juve che investì tutti i miliardi di lire che arrivarono dalla Spagna Acquistando quelli che sarebbero stati poi le calonne portanti della Juve Che andò a vincere diversi anni dopo E questa volta però la dirigenza ha deciso di puntare tutto su un centravanti Grandissimo, probabilmente uno fra i migliori 3-4 del mondo Ma a quale prezzo? Innanzitutto, sì, è chiaro, la Juve manda un messaggio in Italia Comandiamo noi, ma vogliamo vincere in Europa Ma cosa succede se fra 1-2-3 anni tu non riesci a vincere? E sappiamo che non sempre se attacchi le figurine riesci a vincere la Champions League Fra 2-3 anni Chiellini avrà 34 anni Barzaghi e Buffon probabilmente saranno ritirati Bonucci e Marchese ne avranno 33 Dani Alves nuovo acquisto fortissimo, eccezionale, 36 Che dire giù di lì Praticamente la colonna portante di questa squadra Anzi, scusate, sto dimenticando Iguain 32-33 sempre Praticamente la colonna portante della squadra costruita quest'anno Sarà a fine carriera Rimarranno, sì, Dibala Rimarrà Benatia Che comunque sarà sempre Grandicello Rimarrà Rugani, grandissimo giovane Rimarrà, sicuramente la Juve acquisterà negli anni Qualche giovane, cercherà di svecchiare Ma non era meglio investire di più E investire tutti questi soldi che stanno arrivando alla gestione di Pogba Su giocatori futuribili La Juventus ha dimostrato di arrivare a un millimetro Della coppa più importante e più ambita d'Europa Anche senza spendere milioni di milioni Con l'organizzazione, col gioco di squadra, col prestigio Quindi vedremo Probabilmente potrebbe essere un acquisto O una mentalità Che porterà alla vittoria della Champions Ma, ripeto, a quale prezzo? Poi la polemica che ha coinvolto Dell'Aurentis e Iguain Invece mi sembra totalmente sterile Una cosa molto populista Entrambe le parti, secondo me, hanno sbagliato Dell'Aurentis Probabilmente avrebbe potuto prendere anche le sue responsabilità Dire un po' di verità e non solo una parte di verità Cioè, dire che Insomma, ragazzi 90 milioni per un giocatore di 29 anni Non ce li offreranno mai più Perché se quest'anno non fa più 36 gol E ne fa la metà Lo dobbiamo vendere a 50 Quindi vedrete che lo dovevo vendere ora e giusto così Faremo una grandissima squadra con 90 milioni di euro E già l'acquisto di Milik è un ottimo acquisto E viceversa Iguain Si poteva comportare in maniera meno infantile Nella prima conferenza stampa che ha indetto Incolpare non solo il presidente Dire anche, ammettere tranquillamente Che per lui l'esperienza a Napoli era finita E ha preferito la Juve Perché la Juve ha questa ambizione da Champions League E l'ingaggio grosso che sta andando a percepire Non gli dispiace Perché alla fine i professionisti sono professionisti Non tutti sono Francesco Totti Non tutti sono Averzanetti O Paolo Maldini E alla fine gli interessava anche quello Una cosa è certa Io, e quindi qui ripeto Secondo me Non è bello vedere il tuo calciatore Fare le visite mediche in Spagna Andare direttamente a Torino Non lasciare neanche un messaggio da dire Alla squadra All'allenatore Probabilmente in un mondo parallelo Il mio mondo parallelo utopico Iguain avrebbe indetto una conferenza stampa Spiegato ai napoletani Cosa era successo Cosa stava per succedere da lì a poco Salutare i suoi ex compagni Il suo allenatore E andarsene quantomeno da uomo Perché lui non deve dimenticarsi Sì, ha fatto 36 o 38 gol Non ricordo Ma non li ha fatti da solo Li ha fatti perché c'era una grande squadra Dietro Perché c'era un grande allenatore Che all'inizio Lo ha E non ricordiamoci l'anno scorso In che condizioni psicologiche Era Iguain Dopo aver perso la Coppa America Dopo aver Praticamente fatto perdere Il terzo posto al Napoli Nell'ultima partita con la Lazio Di campionato Ha trovato un allenatore Che ha cambiato il suo sistema di gioco Pur di mettere Iguain Al centro di un progetto Per proprio E metterlo E metterlo a disposizione A mettere la squadra A sua disposizione Tu non puoi andartene così E far dire A tuo fratello O far dire Al O dire tu stesso Il Napoli Mi deve ringraziare Perché Se non fosse stato per me Non so Non sarebbero arrivati i secondi Una cosa che non ha mai detto Attenzione Ma che io credo Velatamente Abbiano fatto capire Così ha fatto una figura Un po' barbina Ma che più o meno Si uniforma A quello che è La filosofia ormai Del calcio mondiale La filosofia del calcio È questa Quindi Iguain Non è Diciamo Un'eccezione Anzi È quello che segue La regola Quindi non possiamo Neanche prendercela con lui Se si ragiona così Però Ha i tifosi Viventini Che dicono Ma perché vi state Elementando Iguain Non è una vera Bandiera del Napoli Io dico Sì Avete ragione Iguain Non è in Maradona Comunque Iguain Non è in signa Un giocatore che è nato Ha cresciuto A Napoli Eccetera eccetera Però vorrei Vedere come Reagireste Se fra due anni Dibala andasse All'Inter Ecco Quindi non prendetevola solo Con i tifosi del Napoli Cerchiamo di capirci Tutti a vicenda Dunque Io ho detto la mia Adesso spero che voi Diciate la vostra In maniera Più Signorile possibile Nei commenti Non litigate Sappiate che ognuno Ha la propria opinione Alla fine Ci si può anche A mandare a fanculo Cordialmente Non per forza Insultare le madri Eccetera eccetera E fatemi sapere Se questo genere di video Vi sono piaciuti Ci vediamo presto Bella a tutti la band